Con lo sblocco del decreto aiuti bis arrivano anche importanti novità per i lavoratori fragili e quelli che hanno figli under 14. Approvato l'emendamento al decreto che proroga fino al 31 dicembre il diritto a lavorare da casa, due le condizioni, che la prestazione professionale sia compatibile con lo svolgimento del lavoro da remoto e per i genitori di figli under 14 che in famiglia non ci sia un altro genitore già percettore di cigo che non lavori. Si tratta, ha spiegato il ministro Orlando, di oneri per 18,6 milioni che vengono coperti dal Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione del Ministero del Lavoro.